Le stelle di Azus Le stelle di Azus Le stelle di Azus Le stelle di Azus Pesci, godetevi la serenità familiare, la vita sentimentale capace di regalarvi grandi emozioni. La serata trascorrerà in modo piacevole, secondo i vostri desideri. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano su Facebook alla pagina Oroscopo di Azus.